Se fai ancora un passo sparo, ma non hai ginocchio, una bestia come te è pericolosa anche se invalida. Sparo alla testa, esattamente tra gli occhi. Ma allora siete proprio quello che dicono tutti, un pistolero che si fa forte della sua rivoltella. Voi siete... State a sentire. Cos'altro si può fare con un tipo come quello? Chi credi di essere? Lo sai bene. Fermo, Bart. Vedi, potrei ucciderti, ma non lo faccio. Le pallotto le costano troppo che... No, Bart. Niente minacce. Questa volta siamo insieme nello stesso pantano. Per non usare mai più quei sistemi con me. Se no ti stridolo le ossa. Vorrei che quel Mallory non arrivasse a destinazione. Quel Mallory non è una persona da prendere sotto gamba. E tu... Mallory, aiuto! Che è stato? Nulla per ora. Ma sarà bene stare molto allerta. Non avremo la vita facile. Io purtroppo sono un mezzo sangue, avrò la vita dura. Non ti sarò di molto aiuto. So già quello che pensi. Sporco bastardo! Stai giocando con cinque assi. Meno male che me ne sono accorto. Volevi barare, eh? Tira fuori la pistola. Ma sono disarmato. Attento, Jack. Questo è assassinio. Stammi bene a sentire. Un'altra frase come questa ed è la tua fine. Stammi bene a sentire. Sono venuto per ucciderti e ti ucciderò. Devi essere ubriaco. Fai ancora un passo e sei morto. L'hai rubato. L'hai rubato. Grazie a tutti per aver guardato il video.